Benvenuti a questo nuovo vlog Ogni tanto prendere a lavorare con il solito E adesso, è benissimo Oggi è il mio compleanno Ho una provvista nel tuo video I miei 33 anni Perché parole, anni di Cristo Adesso di poco compri Per andare a prendere un divorzio E il mio compleanno Quindi, noi ci vediamo Dopo conosco Di lavorare E oggi andiamo anche Della mia sorella E con una sorpresa Non mi dico qual è Adesso è proprio qui Devo andare Devo andare Ci vediamo dopo Siamo partiti adesso Adesso Vi dico qual è Il prossimo ospite Amico di famiglia Auguri Marco Dillo che oggi è il tuo compleanno Io lo so già Ah lo sa Io lo so già Deve metto il titolo Ah devi mettere il titolo Andiamo a festeggiare Andiamo a festeggiare Già Ci vediamo dopo 2.000 anni L'amica di famiglia Amica di famiglia Sì ma falla vedere Chi è l'amica di famiglia Sto mistero Fa vedere sto mistero Ciao Ciao Amica di famiglia Sono le tre e mezza E che ora abbiamo cominciato a mangiare Abbiamo fatto il pranzo di Natale Voi lo vedete nelle foto Voi E noi l'abbiamo mangiata E niente ci vediamo dopo Per lo sito di Torino Come vedete sono Un altro del mio paese Adesso Vado a prendere Il treno che mi porta Al Torino Per fare una festeggiata E poi 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 E il mio altro regalo E E Poi anche faccio Poi anche faccio Poi anche faccio Un video Un vlog Non di solo foto E poi Foto di cibo Sono accontentato E' una che mi segue Miborrico Quando Io hanno fatto in buro Allora sto in buro Ti sonoanny E poi Mh Um выводide E' una che first trend E' una che first trend E' una cosa cosa che fa C4 Come si sa i confronti E' una che cosa che Fatta qui E' una che ama historia e vado a Torino per colpare altri l'avevo già detto io devo ripetere 50 volte le cose no e sono tornato a casa per cambiare perché avevo l'uomo della divisa anche per mettere il più vero perché oggi è l'oledì è grigio il tempo è grigio il tempo è grigio il tempo per non fare di pioggia è meglio con l'ombra cioè adesso devo scelutarvi perché sono le stesse perdonare e qua è quindi devo salutarti Bene, adesso, sapete perché quando cammino ho sempre un affanno, ma volete cammino normalmente per camminarmi, non so perché, sembra anche che faccio il video dove parlo mentre vado al progetto a casa, invece no, invece, tornando per le barca, avete capito cosa dove vado a prendere, mentre bisogna dire 800 volte. Probabilmente poi dopo vi faccio vedere il altro regalo che mi sono comprato, ovviamente ho comprato, ovviamente ho comprato un po' di pallone che mi detesto, ho fatto, mi hanno comprato un po' di pallone, mi faccio vedere cosa ho comprato, quando torno a casa, per dire che oggi avessimo distrutto, tornato a tornare, un po' di pallone, di pallone, ma una cosa per me, in fondo che è il GALDO, il centro che vado ogni sabato. e adesso, anche adesso ho finito, lo torno a casa e poi dopo ho mangiato, faccio i piatti, un po' di pallone, cosa faccio, un altro video, un altro video, un altro video, perché, la prima cosa faccio dimostrare un video, se faccio solo dimostrare un video, come eri, ho fatto i video più lunghi, invece, la prima cosa la settimana, ormai faccio così, non ho già fatto così, io ho tempo, per fare tutto. E ci vediamo dopo. Adesso vi faccio vedere cosa ho comprato, aspettate, questo è per me, questo è per me e questo è per i guard e adesso termina qui il vlog. Se il video vi è piaciuto mettete un like, iscrivetevi al canale. Se vostra vita è grigia sorridete perché avete una vita sola. Ciao alla prossima!